L'indice RT del Molise continua a scendere. Secondo l'ultimo monitoraggio del Ministero della Salute e dell'Istituto Superiore di Sanità è ora a 0,89 e dunque per la prima volta dopo settimane scende sotto l'1, mentre quello nazionale è a 1,16. In Italia solo quattro regioni e tra queste c'è il Molise sono sotto l'1. La regione da lunedì passa dal rosso all'arancione, la decisione ufficiale ed è stata comunicata dal Ministro Speranza. Sul fronte del bollettino quotidiano sono 62 i nuovi positivi su 762 tamponi processati. Il tasso di positività è all'8,1%, quello nazionale è di poco inferiore, 7. Una sola vittima, un 76enne di Boiano che era ricoverato in malattie infettive, 115 i guariti. Per quanto riguarda i ricoveri, 8 nuovi pazienti negli ospedali e nessun dimesso. complessivamente sono 113 pazienti ricoverati tra Cardarelli, Santimoteo, Gemelli Molise e Neuromed. Di questi 16 sono in terapia intensiva. Infine i contagi nei comuni, nessun dato elevato. Il centro con più casi e termoli, con sei positivi, poi cinque casi a Venafro, Iserni e Santa Croce, quattro a Campobasso, Campomarino e Petacciato.